Sono qua a aspettare che qualche trialista rimane sui sassi come me l'altra volta e incominciano a fare... Sergio! Ti aspettano eh! Alla fine! Ma quanti sono diventati? Spettacolo! No! Tutti insieme no! Spampi! Ma che se resti giù nei sassi sono lì pronti a mangiarti eh! Ma quanti sono? Un altro ne arriva! Bello!